Noi riteniamo che questa giunta abbia delle responsabilità e comunque non abbia operato bene, noi rispettiamo tutti per carità, io Lombardo mi auguro che possa dimostrare la sua estraneità ai fatti di cui viene imputato, non ho mai strumentalizzato questa cosa e mi ripugnerebbe farlo, perché so e conosco la sofferenza di persone, tanto per essere chiaro, io sono uno di quelli che Cufaro lo va a trovare regolarmente, non me ne vergogno, perché credo che sia mio dovere, morale come cristiano e come cittadino.